Ciao, sono Mauro Luzzo di Affitto Gold. Oggi mi trovo in via Sant'Agostino, nel cuore di Torino a pochissimi passi dal quadrilatero romano, per farti vedere come abbiamo trasformato questo appartamento per un'operazione di sublocazione immobiliare. Fino a due settimane fa questo era un trilocale con ampia zona giorno all'ingresso e due camere da letto. Abbiamo diviso quest'ambiente per ricavare la cucina abitabile e la prima stanza singola. Mi sposto ora nella zona notte dove troviamo il bagno e altre tre stanze. Il bagno è rimasto pressoché identico poiché è già ristrutturato di recente, quindi abbiamo solo aggiunto il box doccia e disinfettato completamente tutto l'ambiente. qui abbiamo la seconda stanza, è la più ampia dell'appartamento. Il fotografo ha appena terminato il book, per questo ci sono ancora i complementi di arredo sparsi qua e là per la casa. Qui invece in origine c'era la stanza più grande, di circa 20 metri quadri, dalla quale abbiamo ricavato due stanze più piccole da 9 e 11 metri quadri. Dato che intervenire direttamente sull'infisso esterno ha fatto storcere il naso alla proprietaria, ho deciso di creare questo piccolissimo balcone interno che ci consentisse di avere una struttura d'appoggio su cui agganciare il cartongesso e in questo modo installare una porta a finestra, lasciando completamente inalterato il profilo esterno originale. Ora mi sposto dal lato opposto per farti vedere l'altra stanza. Qui inizialmente avevamo un ripostiglio, per integrarlo con la restante parte della camera originale è stata creata un'apertura sul tramezzo. Questo ci ha permesso di recuperare 3 metri quadri in più per la stanza e sfruttare al massimo tutti gli spazi disponibili. Anche qui abbiamo la porta a finestra per accedere all'infisso esterno. Ricapitolando, meno di 20 giorni fa abbiamo preso in locazione un ampio trilocale in una delle vie più centrali di Torino. Lo abbiamo trasformato in un appartamento con 4 stanze singole che abbiamo subaffitato a studenti universitari e a giovani lavoratori. Ovviamente il tutto avviene in maniera perfettamente lecita e con il pieno consenso della proprietaria. Tra l'altro ho scoperto qualche giorno fa che il vecchio inquilino di questo immobile è stato sfruttato perché non ha mai pagato l'affitto. Da ora in avanti invece, grazie al sistema Affitto Gold, la proprietaria riceverà il canone di locazione ogni mese per i prossimi 8 anni, protetta dalla botte di ferro a tripla garanzia Affitto Gold. Se ancora non sai di cosa sto parlando, visita ora www.affittogold.com e scarica subito lo special report. All'interno troverai tutti i dettagli per mettere il turbo alla tua rendita d'affitto. Ciao! All'interno troverai tutti i dettagli per la tua rendita di ferro a tripla 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 a tripla. All'interno troverai tutti i dettagli per la tua rendita di ferro a tripla a tripla a tripla a tripla.